nomi eccellenti sono sfilati su questo palco su questa passarella ma chiudiamo la nostra serie di preziose interviste e contributi con la dottoressa Iannone l'artefice di tutto questo che ha avuto la capacità di trovare quest'anno un tema davvero appropriato la misericordia e la solidarietà sì grazie è vero è stata questa un'edizione speciale perché la tematica quella a cui il premio si è ispirata e quindi la misericordia e quindi la solidarietà la speranza per le periferie sociali e la coesione tra laici e religiosi questo è il nostro impegno oggi quello di tutelare appunto la carità la misericordia e quindi essere vicini e impegnarsi sempre di più a sostenere iniziative che si muovono e promuovono le cose in questo senso dottoressa chiudiamo dicendo che quest'anno è stata una carrellata dove veramente tutti i premiati nomi altisonanti hanno sentito il forte richiamo e tutti sono venuti a ritirare personalmente il premio sì e la cosa bella che veramente è la tutti i servitori dello stato quindi abbiamo avuto dal prefetto franco gabrielli al comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio del 7 all'avvocato generale di stato della procura della repubblica Antonio Marini e così ad andare moltissimi insomma erano 12 le personalità è stata un'edizione eccezionale e lavoreremo tutto l'anno quindi il premio per tutto l'anno lavorerà su questo tema e assieme con il contributo di Monsignor Paglia e di tutti gli altri amici che ci sono vicini grazie ringraziamo i nostri utenti la dottoressa Iannone chiudiamo qui queste belle riflessioni e interviste sulla tredicesima edizione del premio le ragioni della nuova politica grazie 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 grazie